Ciao Salvatore, come ti sembra questo appartamento? Adesso, come più di impatto, tutto ok. Domani vi diamo un altro vestito perché ci pernottiamo? Certo. Così domani allora ne facciamo un altro di filmato. Sicuramente, tutto bene, bellissimo, veramente ben organizzato. Sono bella, bella, aspetto carino. Ok, poi domani magari mi direte come sono i materassi e come si dorme la notte qua. Va benissimo, è molto confortevole. Grazie, grazie. Allora a domani così ci fate sapere. Grazie, ciao.